ciao claus sto ancora regolando i volumi aspetta un secondo allora perché è successo questa cosa allora messa arriva questo per fare questo cosi fatto la musica come la sentite stamattina deve essere leggermente più bassa ok ok ma esserci voilà ma si è bloccato tutto bloccano così stamattina mi metto gli occhiali ok la musica ok mi fa piacere posto state non si vede il piercing al naso ovviamente ho deciso che ho voglia di piercing solo che non me li faccio veri e quindi mi terrò i fake che sono appena arrivati ho anche preso quelli da tanto io qui una volta ce l'avevo davvero quindi è stato un po un tornare adolescente ma dopo il di ieri mi sembra assolutamente perfetta come cosa la mia dove sono in crisi di mezza età chiaramente non ci sono altre motivazioni volmark ciao buongiorno buon weekend come stai spero tu abbia passato appunto un buon fine settimana anche tu claus più o meno claus so cosa hai fatto so dove sei andato perché la mia sfera di cristallo non ho niente che simboli una sfera di cristallo ma faremo finta di questo io poi c'è chi legge nei fondi del tè io leggo nei rimasugli nel dedematite che tempero come è andato cosa avete fatto in questo weekend e raccontatemi vi terrò un po sulle spine rispetto a quello che ho fatto io e che so che volete dannatamente sapere perché siete delle scimmiette curiose e quindi io so che cosa volete sapere stamattina da me vero 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 ok tra l'altro penso di aver ricevuto una quantità di complimenti per i capelli in questi due giorni che è fuori gioco che la metà basta comunque va bene allora vediamo un attimo vero cosa vero vero cosa vero dimmi c'è lag forse speriamo di no speriamo di no ah sì devo anche guardare quella cosa la vabbè intanto che la chat magari si anima scusate anima un attimo anche se è lunedì mattina e percepisco una stanchezza vero che voglio sapere informazioni su live allora il live avrà altre repliche siccome poi questa cosa finisce in internet ci resta io non farò spoiler in questa in questa live io vi potrò raccontare le impressioni le emozioni mie ma non sarà ovviamente non c'è un'intervista non ci saranno spoiler di nessun tipo perché ovviamente non sarebbe corretto quindi no ovviamente niente spoiler ci mancherebbe no c'è anche scritto sulla presentazione della diretta non posso fare spoiler cioè se sono non sarebbe corretto per cui vi posso dire cosa ho provato io cosa mi è sembrato il live ma ovviamente sempre restando su una soglia di soggettività e e basta tipo per esempio posso dirvi che il cibo è stato buono soprattutto dei ceci al curry che erano fantastici non penso si offenda nessuno se lo dico ok va bene intanto come notate mi sono arrivati un po di materiali nuovi fate il piercing si nota ditemi che si nota anche quelli da qua non metterò la prossima maldi da vulvet che cattiveria questa bella però bravo allora il mio personaggio era bello tosto non posso dirvi il motivo nel senso che il nuovo sì no perché da motivo sì la bulla della scuola questo sì perché nei teaser 15 quindi però no mi è mi è piaciuto è stato bello intanto vediamo un po che materiali li sono arrivati oh con l'astuccino sembra una parolaccia non so che sia sta cosa oh bene ha un astuccino con dentro uno sfumino che sembra tanto quello da da fondotinta sfumini vari perché il mio si è letteralmente l'ho guastato io per sbaglio ma si è guastato quindi è carta arrotolata ma deve oh guarda un sacco di dimensioni diverse questi sfumini wow tre due dimensioni varie bene ne ho anche uno qua dentro quindi sfumino morbidino spugnetta Klaus chiede a Augustus Duxi è stato bullizzato per bene questo per fare la punta alle matite gomma pane grigia un portamine bene e altri cosi così vabbè dai carino c'è un sacco di roba qua dentro non male non male questo per eh sono per prendere le matite quando sono ormai sul finire della loro esistenza tipo queste questo oh questo devo provare a farci la punta vediamo se riesco a salvarlo ci hanno provato sì sì ci hanno provato sono anche riusciti poi ovviamente insomma c'è stato c'è stato un gioco anche di richiamo perché insomma dopo quattro anni in teoria teiera buongiorno allora signore avete visto su instagram che la teiera io abbiamo cominciato a postare lei prima di me perché appunto non c'ero ma a postare le cose che riguardano riguarderanno no proverò a fare la punta in altro modo la nostra mitica diretta che ci sarà giovedì sera quindi vi ricordo che questa settimana è settimana di dirette di diretta serale per cui cortesemente non prendete appuntamento ci avete già un appuntamento per questo per questo giovedì ed è con noi vi ricordo che si parlerà della madama butterfly no questa è proprio andata per cui questo lo butto non ha neanche senso perderci altro tempo si parlerà della madama butterfly questo giovedì per cui mi raccomando io mi aspetto la vostra presenza la vostra partecipazione le vostre domande ok quindi fate i bravi mi raccomando comunque una cosa che posso dire di questo larp che in realtà vale per tutti i larp e che un po' mi ha confortato rispetto ad alcune questioni che mi stavo ponendo con me stessa di recente per alcune questioni che riguardano un altro gioco e cioè che effettivamente chi hai attorno è la come dire i giocatori che hai attorno il cast che hai attorno vale tantissimo cioè puoi organizzare l'arp più bello della storia organizzato a livello teorico benissimo perfetto senza senza buchi cosa che ovviamente è umanamente impossibile però facciamo finta che però quello che fa tanto che veramente alla fine cambia cambia tutto c'è un larp mediocre può diventare il larp della vita se hai intorno alle persone giuste e viceversa purtroppo a rispetto dell'impegno messo dallo staff è il cast che hai attorno parlo di cast proprio cast perché si fa un casting quando fai certi larp cioè soprattutto le one shot di questo tipo qua ci sono top g che devi scegliere ne metti 4, 5, 6 a seconda della quello che ti chiedono e poi ti vengono assegnati secondo generalmente un algoritmo che te li assegna però va a fortuna nel senso ci devono essere perché le cose funzionino in un certo modo ci devono essere le persone giuste nel ruolo giusto e fare la cosa giusta io per esempio avevo un'interazione di cui ero un po' preoccupata perché era importante era un legame importante non entrerò oltre veramente nei dettagli per evitare spoiler però era un legame molto importante che avrebbe potuto evolversi in un certo modo e aveva solo un vincolo enorme il giocatore avrebbe dovuto rispondere a me al mio gioco alle mie provocazioni in un certo modo questo da scheda se non ci fosse stata la persona in grado di ribattere alla mia linguaccia nella maniera giusta questo gioco sarebbe morto lì e sarebbe stato un po' un spiacere insomma è stata una cosa molto importante e molto carina io parlo di cast perché c'è stata la persona giusta a riempire questo questo personaggio ed è stato veramente da fine io mi sono trovata come era già successo a chiave di volta a Gatto Pardi a Cyberpunk in particolare in cui ero lì e a un certo punto veramente ero lì la realtà era quella con quelle persone infatti puoi uscirne più che te sto crescendo sto migliorando sui bleed sulle uscite dal personaggio ma se ci ripenso se ripenso a quelle emozioni ragazzi sono state molto forti diciamo che io lo sconsiglio alle persone che non vogliono che non amano o non vogliono fare un gioco intimista le persone che amano le quest in cui vado faccio brigo e torno non è l'art per loro le persone che amano un gioco molto introspettivo comunque molto umano allora ovviamente andate a giocare a questo di corsa muovetevi mettetevi solo scarpe comode sono consigliate cioè vi dicono che scarpe mettere ma ve lo consiglio anch'io beh l'art è sempre il caso di usare scarpe comode è il mio consiglio non spoiler perché comunque è scritto di mettere scarpe comode e dunque vediamo un po' scusate che ci sono stati dei movimenti in chat ma io mi ero persa a farmi i cacchi miei buondi buondi allora non hanno fatto altro che nobilitarmi e darmi attenzioni beh poverino cioè non è che ci avesse tante altre occasioni se non quelle per avere attenzioni la te ciao te io di Alice rischio seriamente di perdermi quella dritta se alla Torino un corso di aggiornamento ah quella diretta ok potremmo perderci quella diretta assieme vabbè a vostro rischio ragazzi a vostro rischio anche tu devi sostenere un corso di aggiornamento sui campionati dell'acqua e posso invucarmi ma starete un po' libero sull'esposizione ti faccio sapere vabbè ok e cosa dire niente quindi questo è stato un po' il mio il mio cosa aspetta è stato un po' il mio mio larp adesso appunto devo uscirne vorrei scrivere il mio epilogo anche se ovviamente non sarà pubblicato perché sennò diventa spoiler però poi magari lo girerò o lo farò quando sarà possibile o lo girerò ai diretti interessati cioè le persone che saranno citate di dentro giocatori e personaggi in più ho scoperto che avevo avevo in classe una persona che è una degli organizzatori delle diable per cui è stata una bellissima scoperta ho avuto il piacere di conoscerla e già mi piaceva come persona in chat e dal vivo ancora meglio per cui ma non il personaggio cioè il personaggio l'ho adorato ma anche la persona ma parlavo della persona dunque ma domanda tattica sull'ARP tu come ti sei sentita interpretare quel personaggio allora io avevo molta paura lo sapete perché fare un cattivo di quel tipo cioè una persona che bullizza il prossimo non rientra proprio nelle mie corde anche perché da mia esperienza di vita ero quella bullizzata per cui me ma ho fatto una premessa nel senso che ho contattato la persona che avrei comunque su quale sarei dovuta perché poi magari il gioco cambia stare più addosso l'avevo contattata prima per presentarmi per dirgli guarda immagino che tu sappia che tu ce l'abbia in scheda io sono quella persona se hai qualche cosa che tu non vuoi che tocchi soprattutto fuori gioco dimmelo che ovviamente evito perché non so da che parte andrà il gioco quindi diciamo che ero un po' preparata e poi ovviamente avevo detto la stessa cosa poi il live davanti a tutte le persone soprattutto della mia classe o dei gruppi che avrei frequentato durante i workshop che precedono i live i larp di solito dicendo appunto vi prego se c'è qualcosa che vi mette a disagio non volete che tocchi gli temelo senza problemi perché deve essere una bella esperienza per tutti se dovesse succedere invece il contrario cioè che a me magari viene fuori qualcosa dispiacevole per voi fuori gioco uno considerate che l'ho detto in gioco quindi niente di personale però venitemelo a dire perché ovviamente magari non ratero ecco non vado avanti in quella direzione ma devo dire che mi sono trovata bene ho trovato una maniera che mi ha fatto sentire a mio agio di giocarla e poi ho avuto una davvero bella evoluzione mi piace quando il personaggio riesce ad avere un'evoluzione e una conclusione degna e sono contenta per cui ho un mal di piedi che la metà basta proprio voi non avete idea ci sono stati poi dei problemi anche di organizzazione sulle stanze che all'inizio mi avevano ammetto parecchio un po' indisposta però è stata risolta molto bene ho ringraziato all'infinito le compagnie di stanze in cui sono finita per sbaglio ma sono state molto carine e alla fine è stato un modo per avere ulteriori spunti di gioco era bello tosto quanto mi dicevi eh sì io quello che spero ovviamente ma come sempre questo vale per tutti i miei personaggi di averlo reso bene e di aver coinvolto i giocatori ma questo lo dicono gli altri non lo posso dire io io mi sono personalmente stato coinvolto nel personaggio tutto il tempo esatto io anch'io tra l'altro c'è stato non c'è stato time out nel senso venerdì sì ma da sabato a domenica è stato un continuo per cui non si usciva dal personaggio è la cosa che io apprezzo del larp sei dentro e resti dentro la cosa che per esempio in cartaccio non riesco a fare io dopo un'ora in cartaccio mi rompo le balle il larp posso tirare avanti i giorni letteralmente senza mai uscirne anzi ricordarmi di dover uscirne perché dovevo telefonare a casa e chiamare mia figlia perché poverina dovevo farmi sentire non era automatico cioè era facevo fatica perché poi ovviamente per fortuna sottolineo per fortuna essendo ambientato nel passato non c'erano i cellulari per cui nessuno era là a perdersi col mondo reale perché evitando sovrapposizioni e questa è una cosa fantastica quindi dimostra che se possiamo potremmo ancora vivere completamente senza cellulare staremo bene lo stesso però dovevo ricordarmi che effettivamente io sono realmente un'altra persona un'altra vita un'altra età e dovevo farmi sentire a casa per cui ho ritagliato dei momenti per questo ma quando l'ARP ti assorbe tanto tanto bene si fa fatica a ricordarsi che bisogna magari ci sono delle necessità altrove una cosa che ecco che posso dire e non è spoiler che ho apprezzato tantissimo di questo LARP ma proprio tantissimo è stato il fatto che non ho mai visto nessuno ma sottolineo nessuno mai fuori gioco mai nemmeno durante i turni di cucina a parte vabbè magari è capitata la frase perché a volte c'è una questione meramente logistica ok però c'erano oppure c'erano delle cose a cavallo di cui non vi posso dire perché mi hanno toccato perché sennò sarebbe spoiler magari poi ve lo dico in privato ad alcuni di voi che so che non andranno all'ARP però ve lo spiegherò però diciamo ci sono state delle cose che magari erano un po' a cavallo anche semplicemente il turno di cucina cioè dirti cosa fare però è avvenuto sempre tutto perfettamente scusate il piercing in gioco o comunque dicevo erano cose che potevi sovrapporre tranquillamente senza problemi senza metaplay senza paranoia per cui facevi una domanda e chi mi ha risposto in gioco e quindi da lì ripartiva mai un commento mai anche i comportamenti dei giocatori perché Tara è un ambiente 30 anni fa per cui certo però per me è stato davvero un po' un tuffo nel passato è chiaramente una realtà differente però bello cioè mi sono sentita di nuovo ragazzina studentessa mi è piaciuto ora forse dovrei anche disegnare tra le altre cose vivere come dei selvaggi sì è un po' come voi ecazzi esattamente voi dei selvaggi sì al massimo di cui smettevamo semplicemente di litigare esatto perché comunque dovevi collaborare e comunque anche quello era in caratter per quanto mi riguardava cioè alla fine dovevi fare una cosa per la scuola e siamo comunque persone che hanno ricevuto un'istruzione e frequentavamo un ambiente di un certo tipo per cui l'intelligenza di dire devo fare il turno di cucina con certe persone lo faccio e basta non sto lì a rompere le balle a litigare cioè per cui era è stato risolto tutto in gioco molto bene io per esempio le lezioni a cui ho assistito sembravano autentiche io devo capire se quelli che mi hanno fatto lezioni di diritto retorica ed etica erano veramente insegnanti di queste materie o meno perché ho accorto i dubbi che non lo siano tanto le hanno fatte bene tanto è che io ho preso serie appunti che per certe cose credo che mi studierò e magari vorrò approfondire per conto mio e qua torniamo al bello dell'ARP che davvero a volte può essere uno spunto culturale non indifferente sono materie che io non ho mai avuto il piacere di studiare o di approfondire e ammetto che mi hanno fatto venire voglia di farlo di capirne di più e questo si parla di uno spunto che mi è arrivato dal gioco ringrazio i giocatori anzi spero che si guarderanno mai questa diretta o comunque il video dopo li ringrazio perché veramente sono stati degli insegnanti più che credibili io ho il dubbio che loro quantomeno abbiano davvero studiato quelle materie per come le hanno esposte e la dinamica che si è creata con la classe era autentica cioè io questa è una classe autentica di persone che studiano queste cose fanno i dibattiti fanno cose perché poi anche fuori rispetto alle altre facoltà il nostro comportamento era sempre quello di cavillare sempre quello di battibeccare sempre quello di emergere a livello proprio di retorica di dialogo è stato veramente portato bene l'altra cosa che mi ha stupito da matti è stato ho fatto un sacco di punti sono quelle che hanno fatto più punti probabilmente in atletica ragazzi io ho corso per ore questa è la magia dell'arp quando ti trasformiamo diventiamo altre persone ho fatto atletica e io qui lo dico e non lo nego è stata una delle cose più divertenti che abbia fatto ero terrorizzata da atletica perché mi conosco ma no l'ho fatto avevo più fiato di quello che pensavo ho retto meglio fisicamente di quello che pensavo perché si è avuto un po' di affaticamento alle gambe la mattina ieri mattina quindi dopo due giorni ho saltato una parte di una lezione e una l'ho fatta da ferma per motivi di gioco dico solo questo però è stato bello cioè ragazzi io non corro di qui alla bottiglietta d'acqua che è qui ok che è qui non corro senza il fiatone ma là non ero io era velvet quindi benissimo così saluto veloce ciao lord omega che fra 10 minuti ho una call vabbè ma noi siamo meglio della call e te che rinanzia per atletica che invidia avrei voluto farla anch'io eh sì no è stato bello io sono cioè ragazzi davvero sono contenta oggi ovviamente adesso disegnerò velvet l'unica cosa che farò sarà un attimo vedo un messaggio qui devo vedere se devo rispondere subito no a questo risponderò dopo a questo risponderò dopo risponderò un sacco di cose dopo bene voi siete meglio della riunione sicuramente faresti la seconda run sì allora chiaramente adesso tante dinamiche le conosco quindi c'è sempre il dubbio di dire allora in un mondo magico dove non ho impegni dove posso avere tutti i soldi che voglio dove non soffro stanchetta dove la mia famiglia non mi ammazza se sparisco di nuovo per una replica per una replica sì decisamente magari la farei dalla parte dell'insegnante per giocarmi l'altra parte o con un personaggio totalmente diverso però sì lo farei assolutamente quindi onestamente io questo è un l'arp che consiglio ma deve piacere tanto il gioco intimista altrimenti lasciate perdere perché non è l'arp per voi forse da professione sì infatti potrebbe essere carino farla in quel senso lì scusate un attimo che mi prendo anche se si parla di me prenderò una reference perché preferisco giusto così diciamo poi veramente il casting è stato fantastico ho avuto la possibilità anche di giocare con persone con giocatori che conoscevo con cui non avevo magari interagito in altri in altri darp senza come dire perché non sempre ti incontri con le persone che conosci con i personaggi tipo in questo caso con questo sdus a parte insultarlo ma perché insultavo chiunque non abbiamo avuto niente da spartire ma proprio niente altri darp invece sono stati fondamentali dei nostri personaggi uno per l'altro comunque detto ciò sì lo consiglio klaus se puoi provare è una bella sfida interpretativa questo larp per tutti non soltanto per il personaggio che avevo poi ci sono sicuramente magari quelli forse un po' più leggeri forse non lo so perché credo sia il tipo di larp che pesante sì pesantezza e leggerezza di certi pg arrivano anche molto da come te di giochi però se per caso stai pensando di farlo ti dico di provare la professoressa di arte sì ma quello io giocherei facile nel senso che vabbè se sono mia materia dovrei sicuramente prepararla ma per esempio una mia amica faceva la professoressa di biologia ma lei non è una non sa nulla di biologia so che anche lei è stata assolutamente credibile come tant'è che pensavano davvero fosse una professoressa nella vita reale ecco ha un modo anche molto impostato di parlare quando vuole però era assolutamente credibile e anche con lei nonostante abbiamo fatto il viaggio andato e ritorno assieme vabbè che con lei c'è sempre questa cosa che non giochiamo mai assieme però sono anni che facciamo l'ARPA assieme ma anche stando nella stessa famiglia noi non giochiamo assieme è una cosa allucinante allora sì noi non abbiamo avuto molta influenza sulla stessa ma io ho costruito un aspetto del pg ecco magari se vorrai poi raccontarmelo mi farà piacere perché io il tuo pg te lo dico sinceramente non avendoci interagito se non appunto passando dandoti delle bastonacce delle punzecchiature andando via non l'ho capito non ho proprio capito il tuo personaggio non ho capito chi fosse mi piacerebbe capirlo adesso se fosse possibile se avrai voglia di raccontarmi del tuo personaggio sai che il gioco introspettivo l'ho scoperto con te ma mi ha preso molto e sto cercando di riproporlo credo che cercherò di andare ok la location è stupenda questa la conoscevo già c'era il mio primo Larcom Terra spezzata la mia prima one shot l'ho fatta lì tra l'altro era il mitico l'epico chiave di volta dove ho conosciuto persone tra l'altro l'ho visto anche ieri Diego anche il narratore che abbiamo a Dune l'ho conosciuto là per cui è stato proprio bello una location spettacolare unica cosa scarpe comode veramente questo lo consiglio Klaus io ti consiglio di andare non è un live facile non è non è un un larp facile ci sono personaggi per tutti i gusti per esempio c'era un personaggio molto particolare con delle situazioni diciamo di anche per esempio di come dire mi viene il termine quando mi verrà finirò la frase comunque diciamo ci sono personaggi davvero per tutti i gusti e quindi secondo me potresti provare tanto ricordati che è tutto un gioco tra l'altro ho scoperto che fanno anche se c'è un momento previsto post l'arp se per chi vuole dove proprio ti fanno ti aiutano a uscire dal personaggio perché a volte c'è bisogno bisogno di un aiuto come a teatro devi entrare nel personaggio ma devi anche riuscire a uscirne non sempre è facile non sempre è automatico e questo secondo me è una proposta molto sana che ha offerto terre spezzate perché per un lato del genere se uno non riesce ad elaborare ti resta invece avere un aiuto per uscirne è una proposta molto sana che secondo me dà qualità proprio alla proposta di gioco cioè su di te ho tirato il mio assio con ingiustizia e bullismo fantastico mi è partito la pubblicità ho perso un pezzo cosa hai perso? mi è piaciuta molto Augustus Lux la tua la frase a pranzo perché non me l'aspettavo quando sei arrivato a dirmi che stavo parlando con l'altra giocatrice ah ma allora non sei soltanto superficiale mi è piaciuta moltissimo quella tua uscita volevo dirtela ieri poi non ho avuto occasione e te la dico qui in diretta allora questo LARP qua avresti dovuto provarlo bisogna appunto riuscire a entrarne e a uscirne ma come dicevo c'è questa possibilità di che ti danno anche di aiuto la direttamente posta LARP per uscire dal personaggio che è un'ottima proposta non hai sentito scusa ho detto che mi è piaciuto molto da quando sei venuto a pranzo che avevamo il turno a dirmi guarda che pensavo fossi soltanto superficiale invece sei in grado di fare anche discorsi personali più profondi adesso qualcosa del genere è stata la nostra l'unica vera interazione forse a parte quando ti ho rovesciato il bicchiere dell'acqua per gli acquarelli però mi è piaciuta tanto per l'unica vera interazione è rovesciato l'acqua di acquarelli non cominciare Klaus non cominciare ti prego mancano ancora le giorni basta si stavi parlando con un'altra ragazza si qualcosa di tu personale ho colto un pezzo di discorso si esatto parlavo a modo della questione di astronomia di cui ancora ho il braccialetto qua perché mi ero fatto il sistema solare sul bracciale Maron è stata sì perché poi non l'ho fatto con la mano cioè li stavamo chiacchierando io stavo spostando col piede c'era un bastone per terra perché eravamo all'aperto io stavo spostando col piede la cosa per cui gliel'ho fatto io l'ho rovesciato incastrandolo col bastone rovesciando lui non se ne è accorto perché io in realtà ero distante quindi lui non ci ha pensato che gli stessi per fare uno scherzo perché c'era tipo quasi un metro fra me e lui solo che c'era questo bastone lungo io col piede ho cominciato a spostarlo chiacchierando lui stava disegnando quindi guardava in avanti non alle sue spalle e quindi io me ne sono andata col bicchiere dove ho scelto ma lui ci ha impiegato un po' ad accorgersene ciao Gimdalas buongiorno benvenuto secondo te Gimdalas oggi di cosa si sta parlando e che cosa sto disegnando no perché sai chissà mai dovremmo fare una serie di meme evil buy like buy like vabbè buy like tu che c'entri in questo larp scusa vai a farti il tuo larp torna con i tuoi meme e con i tuoi cattivi del di turno insomma quando escono le foto dell'evento si tra l'altro è stato bello incontrare un sacco di persone che rivedrò sabato in tutt'altre vesti infatti questa ve la posso raccontare perché non c'entra è capitata durante il live ma non c'entra anche perché poi non sono riuscita a farla ma eravamo io Padulla il Pope e Diego quindi tre che settimana prossima vanno a fare dune e davanti quello che ha interpretato il professore di astronomia e stavamo chiacchierando di cose X non c'è stata occasione perché sono venuti a chiamarlo ma io stavo per fargli questa domanda professore ma secondo lei viaggi interstellari sono possibili? l'ho detto a Diego ecco lì forse è stata l'unica mia mezza cosa fuori gioco cioè avevo una nota fuori gioco perché gliel'ho detto lì durante e si è messo a ridere perché ha capito in realtà per quale motivo volevo chiedere però comunque in realtà è venuto sempre tutto all'interno del gioco erano come dire i sottointesi tra di noi che si potevano capire e cogliere sta parlando di Soyang esatto sto parlando grazie c'era di biologia che io sappia oh ragazzi non l'ho ancora detto stamattina ma ho fame no di cose scienziate c'erano biologia astronomia e psicologia io stamattina io stamattina mi sono svegliata colino della Devington in testa non vorrei dirvi questa cosa astronomia che è poi stata più astrofisica di cosa avete parlato nel senso noi abbiamo parlato è stata molto leggera la nostra lezione non so perché se era perché ormai erano le 6 di sera 7 no 6 perché poi dovevamo andare a cambiarci al volo tant'è che abbiamo siamo usciti 10-10 minuti prima per andare a fare poi la battaglia la prova dove abbiamo anche vinto perché la legge detta legge questa cosa è bellissima è un motto che mi porterò avanti è stato bello giocare la studentessa di legge comunque mi è piaciuto proprio su astronomia era davvero seria e credibile ti faceva stare attentissimo io girava voce nelle aule nei corridoi che fosse estremamente severo a noi ha parlato dell'energia e dell'origine dell'universo ah bello ecco no noi abbiamo parlato di altri ha fatto una cosa molto leggera in realtà abbiamo parlato un po' ha chiesto di cosa vogliono parlare io ho tirato fuori il discorso un po' delle tipologie delle galassie però però era tardi ma è un po' noi avevamo anche il fatto che dovevamo andare via nel senso alcuni di noi avevano poi l'ora dopo la partita per cui comunque io ho pagato la mia voglia di avere una rivisa scolastica stamattina mettendo quella al tasso del miele vi assicuro che non è che c'è anch'io la rivola voglio la mia cravattina rossa la mia cravattina rossa la voglio la mia cravattina Io devo scrivere in tutti quelli da ringraziare, perché sennò è un pazzesco. Allora, mentre quella beggia era severa, ma punitiva proprio, che chissà perché, mi sembra giusto, ma so che ti ha cacciato poi dall'aula. Io comunque provo, cioè ha fatto benissimo, non so il motivo, ma sicuramente ha fatto bene. Poi, come sempre, anche i PNG, comunque non ti accorgevi che erano PNG? Sì, perché ovviamente qualcuno c'era, ma tutti proprio bravi. Poi, devo dire che anche il livello comunque fuori gioco di educazione, nelle camerate, robe così, l'ho visto veramente alto. Persone molto rispettose, anche del fatto che a un certo punto bisogna andare a dormire. Mi aspettavo più casino, invece tutto sommato non c'è stato e ho apprezzato anche questo. Perché, insomma, alla mia veneranda età, a un certo punto io ho bisogno di dormire. Non essendo più giovane da fare gli after, sì, devo dire che lo staff è stato bravissimo, sì. A un certo punto per me c'è stata una dinamica di gioco molto pesante, non entrerò in nessun tipo di argomento, ma al time out il giocatore, il PNG, anzi scusate, che era venuto a, che me l'aveva fatta, mettiamola così, è venuto a scusarsi, proprio scusami, no figurati, è stato bello, no scusami. Però, ragazzi, è un lave da preparare i fazzoletti, questo ve lo dico. Comunque, veramente, se non c'è amarafra, non mi fate bere neanche morti, eh, mamma mia. Allora, in realtà le cose succedevano, però no, fuori gioco a un certo punto la gente, non c'erano particolari dei gay alle 5 di mattina, gente con la musica a pala nelle camerate, probabilmente perché comunque essendo tutti in gioco, dalle 9 di sabato alle 3 della notte eravamo tutti finiti, chi più chi meno. Sto risparmiando ogni ogni points per la live, mi sembra una motivazione molto valida. Tegliere di Alice, io ho giocato con la tua sosia, a parte gli occhi che non erano uguali, nel senso che tu gli hai chiari, lei gli ha castani, questa ragazza, è bergamasca, quindi tuo stesso accento, capelli lunghi, castani, stesso modo, un po'. Ma mi sono arrivata a chiedermi se è la tua sorella. Giocatrice bravissima, l'ho adorata, l'ho amata, fantastica, ma io mi sono arrivata a chiedermi se... Tu hai delle sorelle, una per caso ieri ha fatto un larp, ti prego fammelo sapere. Eh sì, giuro, no, è... Eh sì, al presente di chi parli, si chiama Beatrice, la giocatrice. Era vero che era uguale. Infatti a volte il poverino è detto, oddio, ma io sto parlando con lei, sto parlando con la teiera. Cioè ha avuto un attimo di... Dammi l'agnosi. Te l'ho detto, mi si chiama. Si chiama Beatrice. La sta... Non lo so il cognome, cioè... Adesso glielo chiederò, ma tu hai... Perché mi ha scritto, adesso ci stiamo sentendo su WhatsApp, ma non mi... Aspetta, vediamo se per caso la trovo. Su, faccia bruco. Aspetta. No, non so se mi capiterà mai di vederla, perché... Non so come si chiama di cognome. Non so il cognome, non posso dire. Aspetta, forse la trovo da qua, però. Vediamo se la trovo da qua. E se magari mi compare... Mi compare nel... Nelle assignazioni dei personaggi anche il cognome matto, lo dico poi magari in privato. E comunque restano i personaggi. Facciamo prima di far così. Eccola qua. No, non ha il tuo stesso cognome, però... Giuro che potrebbe. Te l'ho mandato. Ma giuro che era la tua sosia. Allora, a proposito del sosio, ho trovato la sosia di Sakina venerdì quando sono andato a giocare a Mastering. Cioè? Ok. Comunque era dal tempo di Sailor Moon che io desideravo avere una divisa scolastica, per cui finalmente ne ho indossata una. Sono una bambina felice, cioè. Ecco, per farvi un paragone, senza spoiler, nel senso che non è, non c'è, non ci sono analogie di gioco, cioè, semplicemente, le analogie degli effetti emotivi che ho subito io. Quando ho visto la penultima puntata della prima serie di Sailor Moon, penso che le abbiate visto tutti, ho pianto due ore dopo la fine della puntata. Qui è uguale. Poi ho pianto durante, ho pianto durante, ci ho avuto piangere la metà del sabato, ho finito... Ammetto che sia ieri sera che stamattina ho avuto dei momenti di... Così. Immaginati, sacchina, tra quanto me, per il resto è identica. Vabbè, sacchina è quando crescerà ancora fra qualche anno, perché insomma, appunto, noi mi continuo a crescere. Ho visto che mi segue su G, ma va! Tanto che all'inizio credevo si fosse ingrandita. Anche Ale è rimasto confuso. Lol. È divertente quando si trovano i sosie. A me invece ogni tanto pioppano sosie che io non trovo esattamente somiglianti, ma non importa. Anche questi, comunque, di nuove cose, perché mi sono presa anche questi graffiti per fitte per disegnare. Che dovrebbe essere andare bene anche nell'altro puppetto che ho preso. Ah no, ma c'è già qui! Scusate. Esci o che cosa? Emma, sì? Vabbè. E dov'è il mio altro puppetto per dire... Eccolo là in fondo, io non so se ci entra. Il cigolio, cosa c'è? Non ti piace il cigolio? No, è troppo grande. Hai capito? No, è troppo... Io non apro questo affare da tempo in memore, ma temo sia troppo esatto. Nonostante tutto, questo è più piccolo. Ah! Che palle! Vabbè, troverò la misura giusta, non importa. Perché non c'è scritta, non me l'hanno scritta sul coso. Furbi. È vecchio perché avrà 30 anni, questa matita qua. Questa. E non... Secondo me non troverò mai più le ricariche. Così, ha questa sensazione. Non so perché... Ma siccome io ho sempre ragione, che è una frase che mi sto capitando di dire spessissimo anche in gioco. Sì, il cigolio! Scusate, sono ancora un po' in caratter, forse. Un po' di bullismo nei costi confronti. Non solo in quelli di Augustus. Devo dire che quando interpreti, riesci anche a dare un portamento realistico ai personaggi. In che senso riesco a dare un portamento realistico ai personaggi? No, che tra l'altro questo personaggio qui aveva una... Era sì la popular snob, perché comunque era nel circolo degli snob, insomma. Però era anche proprio ineducata. Cioè doveva essere... Deve essere una persona che riusciva ad essere anche molto ineducata. Per cui doveva avere veramente dei comportamenti in un certo... A volte in un modo, a volte in un altro. Non scontatissimo. Perché essere la brava studentessa modello, per certi versi, almeno agli occhi degli insegnanti. Ma poi in realtà essere anche una sbragata per altri motivi, insomma. Comunque questo... No, vabbè, questo non era legale, in effetti. Questo personaggio. Non lo definirei un legale. Cioè legale, come legge, sì, ma legale. Ah, che battutona. Ma queste, molte di queste, ce l'ho dai tempi... Oh, ma ce n'è un altro bianco. Oh, bene. Dai tempi del liceo. No, del liceo. Scusate, da scalfumetto. Si parla del 99. Anche una colla. Oh, che belli. Belli questi ritrovamenti che il tasso del miele mi... Di cui si approprierà malamente mia figlia. Io lo so. Sono pennarelli di tutti i tipi qua. Anche dei giocco. Ho deciso che oggi provo a colorare in questa maniera qua. Andrò sui capelli, perché ovviamente questa è la parte più bella di me, chiaramente. Del tutto naturale, no? Si intende. Perché io chiaramente ho i capelli di questi colori in una maniera assolutamente naturale. Non c'è trucco, non c'è inganno. Non so, hanno una base viola, tra l'altro. Ma tranquilli, ragazzi. Io per settimana prossima sono già organizzata. Un viola puro non ce l'ho, no. Nel senso che cambia anche la postura. Beh, certo. Cioè, ci provo almeno. Ci provo. Perché mi sembra giusto, nel senso è più realistico. Almeno se ci provo. Poi se devo essere come Daphne è molto difficile, perché lei deve essere figa. Io sono solo io. Però è un altro problema ancora. Vi sto svegliando, dovreste ringraziare. Vi sto dando il buongiorno in questo lunedì, che qui almeno da queste parti è piuttosto grigio. Perchè mi menate? Perchè sto ricevendo delle minacce stamattina? No, qui c'è sole. Qui splende il sole. Bene, ragazzi. No, vabbè, ma ragazzi. No, aspetta. Ascolta. No, no. Cioè, Daphne, teoricamente, deve essere proprio... Cioè, la Mary Lee Monroe. È uguale, fortunata, uguale in amore. È la Mary Lee Monroe dei distitune. Cioè, nel senso, una... Deve essere così. Poi ci si prova, eh. A darle un senso. Ma io adoro Daphne, ragazzi. Cioè, io piangerò tantissimo anche la prossima settimana, quando dovrò dirle addio. Ma adesso, concentriamoci sui soyang e le lacrimi, che ancora... Giuro che... Sono tuttosomato contenta di non parlarvene live, perché temo che avrebbe... Avrei dei seri problemi. E questo sono seria. Non comincerà a lacrimare. Tant'è che oggi non sono truccata per due ragioni. Uno, perché ho gli occhi che sono così. Ho fatto due giorni di trucco, di mal... Ho avuto mal di testa da sabato mattina a stanotte. Nonostante bruffen, eccetera. Perché... Sonno, stanchezza, luce. Io ho perso una foto sensibile. Il sabato c'è la sole. Il trucco, quando sei già stanco. Ciclo. E... Per cui... Ho fatto tutto il live. Letteralmente tutto il live. Perché venerdì nevevo un pochino. Ma non forte. Tutto il live con l'emicrania. Ma un'emicrania forte. Un'emicrania di quelli veramente forti. Tenuta sotto... Anche perché a volte ero anche disidratata. Perché venerdì ho bevuto tanto. Ma gli altri giorni non sempre riuscivi. Non sempre capitava. Per cui ero anche un po' disidratata. Infatti quando bevevo andava meglio. E... Perché magari non stavi facendo altro. Non riuscivi. Comunque non te ne accorgi di avere così tanto bisogno di... E... Il tasso del miele non ha preso benissimo la mia uscita. Ma anche perché questa settimana scorsa. Papà era andato via mercoledì. Tornato giovedì. Mamma è partita venerdì. Quindi secondo me è stata un po' sballottata. E questa settimana non sarà molto diversa. Perché comunque... Il marito andrà via domani penso. E io sabato riparto. Fortunatamente diciamo solo una notte. Per cui è un pelo più leggera. Stiamo parlando di sua sensualità a Daphne. Tu piangerai a dirle addio? Sì, penso di sì. In realtà non lo so. Forse dipende da come finirà. Non ho idea. Vi faremo sapere anche su questo. Quindi mi sa ragazzi. Preparatevi che lunedì prossimo sapete di cosa parlerò di lune. Venerdì non ho avuto occasione appunto perché non potevo tatarare al cellulare di pubblicizzare il video che è uscito venerdì su YouTube. Invece l'ho messo stamattina. Io vi suggerisco, vi consiglio caldamente di andare a mettere come sempre like. Perché commentare per voi magari a un momento, un attimo, che vi prendete. Per me è un sottolineo aiuto e sostegno al mio lavoro di quanto il crieto. Quindi per favore, quando siete in bagno un attimo, a pranzo, un secondo, andate a mettere like, fare un commento al video. Se poi avesse voglia anche di condividerlo, veramente mi fate tanto, tanto bene, fate tanto bene il mio canale. A volte mi chiedete come potete sostenermi, a parte le ovvie, i modi ovvi con cui si sostiene uno streamer, ma anche questo, commentare like, quindi tenere alto il giro dell'algoritmo. Cioè, stuzzicarlo è un aiuto enorme. Eh sì, tu lascerai indietro una campagna qui, la campagna che aspettavi da tutta la vita, e lo so, lo so, lo so. Io in realtà ammetto, ovviamente non conoscevo un anno fa Dune, non così bene, come adesso, ovviamente non. Minions ho supportato il canale. Non mi aspettavo nemmeno, onestamente, diventasse così importante, sotto vari punti di vista, cioè di gioco, anche umano, per cui sono rimasta molto stupita. Cioè, nel senso, non era prevista questa cosa. Alla fine mi sono resa conto che non andavo a fare One Show da tanto, perché l'anno scorso, per un motivo o per l'altro, mi sono concentrata su Dune. A volte, diciamo, perché non potendo fare altre cose, ripiegavo, ovviamente, su quello, ma è stato un ripiego che in realtà è stato fantastico. Finora, una delle mie migliori esperienze di gioco. Sottolineo, finora, perché io dei finali ho sempre paura. Ho tanta paura dei finali. Purtroppo, scusate, non voglio dire, perché ho avuto, diciamo, delle brutte esperienze in passato in cui campagne durate anni, anni, qui non c'è gioco di anche un anno, ma campagne durate anni, mi sono trovata con... Ah, ma no, ma era tutto un sogno. E questa è la cosa che mi terrorizza, cioè, ho ricevuto dei traumi su questo. Oppure viaggi nel tempo, robe così che mi lasciano sempre molto, molto perplessa. Grazie. Comunque non ho imparato a farmi il nodo winstrel alla cravatta, sappiatelo. Era una cosa alla quale, onestamente, non ho pensato prima del live. Un tempo lo avrei fatto, ma un tempo avevo meno cose da fare. Allora, si osano concludere due dicendo che è una gigante prescienza e entro l'inversa. Speriamogli no, dai. Potrei entrare l'inversa anche io. Potrei entrare l'inversa anche io. No. È un po'... Grazie a tutti 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 Schizzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti